No, forse c'era troppo entusiasmo dopo la vittoria nel derby, oggi siamo andati in campo nel primo tempo secondo me bene, anche se siamo andati sotto di 1-0, secondo me non meritavamo, il secondo tempo sicuramente è da cancellare. Questo credo che oggi ci hanno fischiato e ce li siamo meritati, perché dopo tanti mesi di risultati non positivi ci hanno sempre sostenuto, non ci hanno mai fischiato, oggi abbiamo perso in casa e i fischi sono meritati. Andrea, doveva essere la partita della svolta, per il Bari invece proprio oggi siete venuti meno. Sì, ho detto ora ai tuoi colleghi, tutti sapevamo l'importanza di questa partita, è andata così, non c'è giustificazioni, però ripeto, se abbiamo ancora qualche mese per risollevarci faremo di tutti per stare in Serie A, non c'è giustificazioni, sappiamo che è un po' di tempo che non vinciamo in casa, ci tenevamo oggi a vincere, non è andata così. La soluzione è lavorare sodo e tutti i 22-23 che siamo sputare sangue ogni giorno per arrivare alla domenica carichi e vincere.